che tempo fa oggi là fuori ancora troppo caldo dicono che verrà a piovere rispose Lyle potrebbe in effetti sta diventando scuro ai contadini non farà piacere vero papà disse Lorraine no se devono ammiotere il grano per quelli che coltivano mais fa lo stesso sembra una specie di benedizione una benedizione a doppio taglio disse Lyle dad lo guardò eh sì un sacco di volte le benedizioni non sono andate per il verso giusto deve averne viste parecchie nel corso della sua vita sono cresciuto in Kansas nelle pianure occidentali ne ha visti di cambiamenti giusto un paio guardò di nuovo fuori dalla finestra l'irrigatore si era mosso sulle sue ruote dentate si mise a ricordare questa era l'unica casa della strada quando l'abbiamo comprata non è vero Mary ciao a tutti sono Paolo Pirobon un saluto particolare ai lettori di Emmons e di NN ho appena finito di leggere di incidere benedizione di Kent Aruf lettura e ascolto che consiglio davvero a tutti è un libro magnifico a corrette numerosi ciao